Un'improbabile storia d'amore è la storia di due personaggi agli antipoli. Rappresentano poi quello che sono il clown bianco e l'augusto del circo. E sono appunto una donna raffinata, diva G, e un tipo un po' particolare che è Dandy Danno, un personaggio che crea catastrofi una dietro l'altra. Questo incontro rappresenta in realtà l'equilibrio che si trova tra questi due personaggi che si ritrovano così diversi ma poi riuniti con questo grande sentimento che è appunto la loro storia d'amore. Dandy Danno e Dandy Danno e Dandy sono due personaggi agli antipodi ma ha una cosa in comune che entrambi non parlano. Noi facciamo comicità visuale. La comicità visuale è dentro nel grande mondo del teatro circo ma ha una grandissima particolarità. Parlare con le espressioni e parlare con le emozioni. Siamo sempre stati abituati alle parole, alla prosa, al teatro che ci hanno dato grandissime possibilità. Noi invece abbiamo cercato di eliminare, tornando alla ricerca dei gesti e alla ricerca delle emozioni. E' un teatro esplosivo, è un teatro sentimentale, emozionale, fatto di mimica facciale e di espressioni corporee. Un'improbabile storia d'amore al teatro Giordano, bellissimo. Poi alla fine è la nostra storia, dunque insomma se volete farvi poi i fatti nostri, venite a teatro.